E' già andata, eh? Ciao a tutti, sono Nicola Cesareno, maestro di chitarra elettrica e acustica. Qui in mano la chitarra elettrica. Con insegno qui da tanti anni. L'ospedale Seconda Domanda posso procedere? Amo la musica leggera, in questa scuola siamo circondati da musicisti classici, ma io, come gli altri miei colleghi, amiamo questo genere che dà molta libertà ai ragazzi. Quindi permette a noi di andare incontro a loro, insomma, questa è la cosa bella di questo mestiere. E quindi ci possiamo permettere di avere sempre allievi sorridenti. Questo almeno è il mio motto e... eccetera. Ciao, ci vediamo.